Siamo qui alla notte della ricerca organizzata dal Politecnico e dall'Università di Torino per dare la possibilità ai ricercatori e ricercatrici di presentare le loro attività di ricerca. Uno dei progetti presentati è Children Digicore. Children Digicore è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea e sviluppato dall'Università di Torino insieme a Sinestesia, al Consiglio regionale del Piemonte, all'Associazione Agevolando, e alla NGO di Cipro, Hope for Children. È un progetto sostenuto dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte, dall'Ordine degli Assistenti Sociali e degli Psicologi della Regione Piemonte, dall'Anci Piemonte e dall'Associazione Internazionale dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia. Il progetto nasce dalla constatazione che quasi mai ragazzi e ragazze contattano direttamente i Garanti Regionali per l'infanzia e l'adolescenza per segnalare violazioni di diritti propri o di diritti altrui. Nasce dunque un bisogno, quello di avvicinare i Garanti Regionali ai ragazzi e alle ragazze, anche sensibilizzando ragazzi e ragazze sui diritti di cui sono titolari e sulle modalità per farli valere e sull'individuazione delle diverse autorità alle quali rivolgersi nel caso di violazione dei loro diritti. Ecco allora che la soluzione pensata dal progetto si caratterizza per tre componenti. La prima è l'innovatività. Il progetto infatti mira a sviluppare una app per cellulari che consente a ragazzi e ragazze attraverso un percorso guidato di contattare direttamente l'autorità garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza segnalando violazioni di diritti propri oppure diritti di altri ragazzi o altre ragazze. La seconda caratteristica del progetto è quella di essere un progetto integrato. Il progetto nasce cioè da una valutazione dei bisogni e cerca di evitare inutili duplicazioni e di costruire un sistema che è costituito dall'app ma anche da una metodologia interdisciplinare per gestire da parte di autorità pubblica le segnalazioni che arrivino direttamente dai ragazzi ecco appunto una soluzione che possa essere mantenuta anche dopo il termine del progetto stesso. E da ultimo il progetto adotta una metodologia partecipata in quanto mettere i ragazzi al centro di ogni fase progettuale. I ragazzi infatti sono coinvolti sia nella fase di valutazione dei bisogni tramite dei focus group sia nella fase di sviluppo del prototipo perché un gruppo di ragazzi lavoreranno insieme agli sviluppatori e poi nella fase di test che avverrà sul territorio della regione Piemonte e infine nella fase di training rivolto in particolare ad assistenti sociali e a psicologi sempre sul territorio piemontese training in cui i ragazzi avranno un ruolo di formatori grazie alla loro esperienza. Grazie a tutti.